Beh, intanto sapevamo che Grottazzoline era una squadra molto ostica, infatti loro non meritano di stare in Serie 3, meriterebbero di stare nel nostro girone. Però noi abbiamo fatto una gran partita, abbiamo sofferto tantissimo, forse anche la partita ravvicinata di domenica, un po' di energie fisiche ce le ha portate via. Però siamo stati lì sempre sul pezzo, mai mollare, soprattutto al secondo set, sotto 15-10, è stato veramente bello e importante recuperare quel set perché avremmo compromesso e avremmo messo più difficoltà in noi, però dai, siamo troppo felici, bello, emozionante, sarà un evento bellissimo il 23.